La Fiera Agroalimentare Mediterranea, aggiunta alla sua 48esima edizione in programma dal 29 settembre al 1 di ottobre prossimi, si prepara a stupire il pubblico con ben 350 capi di bestiame in esposizione. Un record per le ultime edizioni della manifestazione che torna ad evidenziare l'importanza della zootecnia e dell'agricoltura nella regione, ma ne fa un'occasione imperdibile per esplorare le meraviglie del mondo rurale siciliano. La presenza di un numero così cospicuo di capi di bestiame provenienti da allevamenti selezionati, spiega Gianni Campo, presidente del consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa che organizza la manifestazione, incarna la diversità e la ricchezza degli allevamenti zootecnici locali. Sarà possibile ammirare da vicino le maestose razze modicana, frisona, pezzata rossa, bruna e limusine, ciascuna con le sue caratteristiche uniche. Si inizia venerdì mattina, 29 settembre, alle 9.30 con il taglio ufficiale del nastro alla presenza delle autorità. Il momento in augurale segnerà l'avvio dell'intenso fine settimana all'interno del foro boario di Ragusa che torna ad ospitare la manifestazione. Come da tradizione, tra le attività dimostrative c'è l'evento dal latte alla provola che si terrà presso l'area agroalimentare dove gli spettatori avranno modo di seguire il procedimento che porta alla trasformazione della materia prima per passare alla Tuma e poi all'ormai famosa provola ragusana. Già in questa prima giornata tanti concorsi di alto livello, tra cui il concorso regionale bovini di razza modicana e la gara di valutazione morfologica delle razze bovine da latte. Poi ancora il Roadshow Fiera Agricola Verona 2024 che fornirà uno sguardo prospettico sulle innovazioni agricole. Un altro aspetto su cui stiamo puntando molto afferma invece Salvatore Battaglia, responsabile organizzativo della FAM, è quello che prevede di eliminare gli ingorghi durante le ore di punta della manifestazione. Infatti da venerdì a domenica sarà a disposizione un'altra grande area di sosta accanto alle zone espositive, senza dimenticare il servizio navetta, attivato sabato e domenica, di cui è possibile usufruirne recandosi nello spiazzale del centro commerciale Ibleo. La FAM ragusa 2023 chiude la nota non è solo un evento dedicato agli addetti ai lavori, ma un'occasione per scoprire le radici e le tradizioni della Sicilia, unendo passato e futuro dell'agricoltura e della Zorcnia in un unico affascinante viaggio.